Benvenuti allo Sport City, questa è la quarta giornata del girone 5 della 4 World Cup, quello dove il Blisseur in maglia arancione alla destra dei vostri monitor prova a prendere in largo contro la Plini, impianti elettrici schierato in maglia gialla alla sinistra dei vostri monitor. Pantaleoni, brecca al centrocampo e se ne va, Pantaleoni col dribbling, salta tutti, Pantaleoni dentro per Marco Maramao, è l'1 a 0 del Blisseur, il break di Pantaleoni, Maramao da là sbaglia rarissimamente col collo interno destro, trova il gol dell'1 a 0. Buono di Severini, occhio a destra parte un cross dentro il tiro, poi ancora la parata in qualche modo sulla linea, la sfera carambola in rete stavolta, ha segnato Gavioli il Blisseur dopo pochi minuti, è già avanti 2 a 0. La sposta sul sinistro, poi c'è il dribbling a rientrare, il tiro cross sul secondo palo, dove è ancora troppo facile per Gavioli fare 3 a 0 per il Blisseur, funziona l'asse Maramao-Gavioli. Che voglia di salire, se ne va Pantaleoni, può concludere invece da dentro a Maramao, che non sbaglia, è il gol del 4 a 0 delle Blisseur, stavolta l'assist, lo fa Pantaleoni. Per trovare ottimi risultati, ma è che lo fa attraverso un gioco ragionato, attenzione a Pantaleoni che va a sbagliare, qui è Monteano allora, ha la chance e la sfrutta per l'1 a 4, è il gol della bandiera della Plini in pianti elettrici, bravi ad andare a recuperare altissima la palla ed è il gol dell'1 a 4. Sicuramente arrabbiare dalla panchina l'allenatore, Blisse che prova ad andare subito in avanti, Maramao! Nemmeno un minuto per ristabilire le distanze, la palla in verticale è di Daniele Stufa, il destro come al solito chirurgico di Marco Maramao. La gara è con Patrizio Severini dentro, ancora in verticale, Maramao va a anticipare anche il portiere avversario ed è un Maramao Show 6 a 1 per il Blisseur, il numero 11, sembra davvero non volersi fermare più oggi. Nel frattempo ha fatto il suo ingresso in campo, si perdono la palla quelli del Plini, allora attenzione al destro e alla realizzazione, stavolta ci pensa Patrizio Severini, una palla lasciata lì è come un cobra Severini, fa 7 a 1. L'attuato dallo stesso Monteanu per il tacco dentro, poi Cucuteanu che la fa passare, è il gol di Cucuteanu, l'azione tutta di prima della Plini in pianti elettrici che fa comunque 2 a 7. A Monteanu che è in posizione di sparo scarta un uomo, Monteanu fino in fondo, il numero 11, bella azione di Monteanu che nasce da palla persa del Blisse, è il gol delle 3 a 7 della Plini in pianti elettrici. Balla va a riprendersela, poi rimane al limite dell'area, ancora dentro l'area di rigore il sinistro, ed è un super gol da parte del numero 4 Federico Oltremarini e soprattutto l'8 a 3 del Blisse. Per Severini che può girarsi in un fazzoletto, cercano 1 o 2 che si chiude dentro, Severini un dribbling di troppo quando avrebbe potuto tirare, la da fuori per il destro che è vincente, ha segnato ancora una volta a Gavioli, il Blisseur fa 9. Il Blisseur cata in fondo il destro, Picciolo e poi a porta vuota la mette dentro Monteanu che stavolta, anzi si tratta scusate di Gabi Oster, è il 9, scusate il 4 a 9 della Plini in pianti elettrici. L'ultima palla del match, il triplice fischio del direttore di gara ci dice che il Blisseur trionfa ancora, stavolta 9 a 4 sulla Plini in pianti elettrici.